FAN NIGHT BATTLE ROYAL FAN NIGHT BATTLE ROYAL Ce la posso fare Della stellina della settimana 7 Quindi andiamo in game Allora ragazzi Stiamo arrivati qui al castello Andiamo dall'entrata Passiamo in uno di questi due L'importante è che andiamo avanti Fino a questo Fino a questa stanza Sì stanza E qui davanti c'è il trono che viene Messo anche nella schermata Dove al posto della cesta C'è il re dei ghiacci Subito qui a fianco Troverete la stellina Quindi spero che questo video vi sia stato utile Mi raccomando di lasciare un like Iscrivervi e attivare la campanellina Giusto? E soprattutto di condividere Con i vostri amici Bravo Quindi noi ci vediamo in un prossimo video Ciao ragazzi